Nuove immagini e i post più speciali per i fan di Ozge Jagitz e Gokberk De Mirci saranno sempre sul mio canale per te e i preparativi per il matrimonio sono iniziati dai nostri amati attori Ozge Jagitz e Gokber De Mirci. L'immagine divertente e meravigliosa della nostra coppia che si prepara per il matrimonio è stata molto apprezzata. Nuove immagini e nuovi post della nostra coppia che condivide una foto piena d'amore per ora è tutto amici da noi sul mio canale arrivederci state sani e sereni Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!